Siamo con Alessio dell'associazione Vivi San Polino, abbiamo visto tende, tiro con l'arco, cavalli, che cos'è? È un'iniziativa che si spera seguiranno altre, creata da un'associazione, una neonata, cioè l'associazione Vivi San Polino, che ha come obiettivo quello di dare vita al più possibile al quartiere tramite iniziative di questo genere, quindi cercare di dare spazio alle famiglie di San Polino, alle persone che ci abitano e quindi dare vita in tutti i sensi, quindi con la socialità, con l'unione tra le persone, che è la cosa poi fondamentale, che è la vera essenza di un quartiere che abita. La manifestazione di oggi in pratica che cos'è? È una rivocazione storica, è un gruppo di ragazzi che si impegnano a ricreare sostanzialmente in spazi una rivocazione storica, quindi una vita medievale, un accampamento con le varie tende, eccetera, e questa è l'intenzione di creare anche sostanzialmente un po' di intrattenimento all'interno del quartiere, insieme a quelli abbiamo la possibilità, grazie al centro di Pico Fusera, di avere avuto oggi poni e cavalli per i più piccini, quindi di aver fatto fare giri gratuitamente a tutti quanti i bambini, insomma, questo è il nostro obiettivo, insomma, di riuscire a dare un'esperienza in più a questo quartiere, ecco dai. Bene, per il futuro invece? Per il futuro speriamo di continuare su queste iniziative, su queste iniziative che comunque creano unione e forza, insomma, quindi vedremo se continuare sicuramente su iniziative di questo tipo, tipo di intrattenimento, iniziative un attimino più educative, quindi, diciamo, musicali, piuttosto che cose di questo genere, insomma, anche gruppi di lavoro, siamo bene benvoluti da questo aspetto, insomma, ecco. Bene, allora vi facciamo tanti bocca al lupo, teniamoci in contatto per questo genere di manifestazioni. Assolutamente sì, grazie. Grazie, ciao.